La sicurezza del viadotto Cannavino, meglio conosciuto come il ponte di Cerico del viadotto Canal Grande dai locali, indicato come il ponte di San Nicola Arcelle dei ponti Emoli 1 ed Emoli 2, è stato l'argomento della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità Provinciale svoltosi presso la Prefettura di Cosenza, presieduto dal Prefetto Paola Galeone, alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia e il Responsabile della Protezione Civile Regionale, il Capo Struttura dell'Assessorato alle Infrastrutture della Regione Calabria, un Delegato Tecnico dell'Unica, i rappresentanti di ANAS, i sindaci dei comuni interessati, i vertici delle Forze dell'Ordine e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Sono state analizzate in particolare le infrastrutture citate anche alla luce delle diverse segnalazioni pervenute dagli amministratori locali, oltre che da utenti e associazioni di consumatori. Alle rassicurazioni fornite da ANAS in merito alla stabilità delle opere sulla viabilità statale seguirà una implementazione dei sistemi di monitoraggio che saranno utili a fornire elementi per le progettazioni in corso, oltre che per garantire maggior presidio di sicurezza per gli utenti, in particolar modo per il cannavino. Si è registrato l'impegno di ANAS a collaborare con le amministrazioni locali al fine di ottimizzare i percorsi alternativi tenuto conto del periodo di chiusura totale del viadotto previsto a partire dalla prossima primavera e per un periodo di circa otto mesi. Dalla riunione è emersa pure la proposta di attivare un tavolo permanente tra tutti i soggetti istituzionali in modo da offrire un supporto all'amministrazione provinciale con il coinvolgimento dell'Unical e degli ordini professionali al fine di affrontare le eventuali situazioni di particolare criticità che si dovessero presentare sul territorio. Al termine della riunione il prefetto Paola Galeone, raccogliendo le richieste dei sindaci presenti, ha invitato ANAS ad assicurare un costante flusso di informazioni sia per quanto riguarda le fasi del monitoraggio che per quelle successive dello stato dei lavori.